Ok, mi chiamo Osvaldo Mané e mi chiamo di Ova FDD Non rilassare un po' di amica, non c'è chiama musica, non c'è un po' di amica, non c'è un po' di amica e di Pasqua E' un po' di amica che non c'è un po' di amica, è chiaro? Ok, quindi, possiamo parlare di Pasqua e parlare di sentino di Pasqua Quindi, che dite di odi, non si può. Attenzione a un po' di amica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.